Padre, ma cosa chiedono oggi i siracusani a Santa Lucia? Di cercare di pensare di fare un cammino di crescita nella vita spirituale, nel cammino di fede, nel rapporto col Signore, ma presumo che in questo periodo di tempo ci sono molte richieste dal punto di vista concreto della situazione sociale, politica ed economica, quindi presumo che una delle cose che faranno di richiesta a Santa Lucia è anche questo, non cercare di stare bene, non avere una provvedenza dal punto di vista economico che li possa aiutare in questo cammino. A chi magari non ha mai visto, non ha partecipato, viene da fuori alla festa della patrona, come racconterebbe il racconto tra i siracusani e la Santa? Beh, è un rapporto un po' particolare, diciamo io pur non essendo siracusano da un tempo sono a Siracusa, in realtà c'è una forma di identificazione tra Siracusa e Santa Lucia, è come se fosse la propria sorella, la propria amica, la propria mamma, non saprei identificare, mamma già diventerebbe difficile, però è così anche la protettrice di fatto diventa tutto, quindi c'è una identificazione che si vede anche nel modo della partecipazione della parte, quindi in ogni caso quando si dice Siracusana è, c'è proprio questa coscienza dell'auto, dell'identità del siracusano. Quindi, e poi dobbiamo dire che dal punto di vista della modalità, diciamo della processione delle altre cose, dobbiamo riconoscere che tutto sommato c'è sempre un certo ordine, una certa modalità, pur essendo c'è una quantità, diciamo che la situazione è più ricca di persone che vede la città, pur essendo c'è tanta gente c'è un certo ordine, questo mi sembra una cosa importante, forse anche del carattere del siracusano in quanto tale, credo. E ci sono anche molti giovani, anche nei momenti che precedono proprio le date canoniche della festa? Certo, no, la presenza dei giovani diciamo intanto è legata ai portatori, alle portatrici, alle situazioni, c'è un giro di persone diremmo così che anche stabilmente ci aiuta anche nella modalità, perché è vero che c'è la devutazione di cui anche faccio parte, però è anche chiaro che se non ci fosse tutto un insieme di persone che materialmente ci aiutano e questa la gran parte sono giovani, diciamo, come in realtà. Poi quest'anno ci sono anche degli aiuti che vengono, cerchiamo di portare le reliquie nelle scuole, ci sono delle scuole superiori che ci hanno aiutato anche nella presentazione nuova, ci sarà un flash mob, insomma ci saranno alcune cose in cui anche c'è una presenza attiva dei giovani, perché diciamo la tradizione non è che è tale se resta ferma, la tradizione è tale perché coinvolge anche altre realtà e quindi da questo punto di vista l'importanza della presenza dei giovani è diciamo ricercata e anche trovata, devo dire, come situazione. Ma mi aiuta a capire, me la racconta l'emozione quando arrivate lì davanti alla cappella ogni anno e arriva il momento di aprire le porte? Beh, guardi, questo è, come dire, è una cosa soggettiva diremmo come situazione, dipende innanzitutto dalla dimensione emotiva delle persone, una parte, poi dall'altra parte questa apertura, come dire, è come trovare la persona amica.